Salve a tutti i bonsaiisti e bonsaiisti e benvenuti in questo nuovo video Oggi in realtà non andiamo a fare nessuna lavorazione in particolare o cose così Ma faccio questo video semplicemente per farvi gli auguri Tirare un po' le somme del percorso che abbiamo fatto insieme quest'anno E di dirvi un pochettino quali sono i miei obiettivi Quindi seguite questo video che sarà molto breve E alla fine ci facciamo gli auguri Semplicemente volevo fare una piccola analisi del canale di come siamo andati quest'anno Che siamo partiti dal nulla, da zero Sia a livello di competenze bonsaiistiche sia a livello di competenze a livello di Youtube E ora siamo arrivati a, adesso che registro, siamo a 478 iscritti Che è veramente tantissimo partendo da zero E infatti sono veramente veramente contento E vi ringrazierò sempre Il mio obiettivo semplicemente con questo canale Era fare una sorta di diario di viaggio Quindi farvi vedere io che cosa faccio con le mie piante Che cosa apprendo Aiutare chi come me sta iniziando questo percorso E crescere insieme E a quanto ho visto comunque il progetto vi è piaciuto molto Questo mi ha reso veramente veramente felice Spero ma non credo che riusciremo ad arrivare a 500 iscritti entro fine anno Però è comunque quasi arrivato quel traguardo Spero che continueremo a salire di iscritti E ovviamente spero che chi di voi mi segue adesso mi continuere a seguire anche in futuro In modo da crescere insieme e continuare questo bellissimo percorso L'anno prossimo ovviamente Come vi ho già detto mi sono iscritto al club Bonsai Inizierò appunto da gennaio In modo continuativo diciamo E quindi a maggior ragione Voglio alzare l'asticella Sia a livello di lavorazioni Sia a livello di piante E sia a livello di competenze Quindi non vedo l'ora che arrivi l'anno prossimo Per finire di lavorare le piante E per fare tutti questi step successivi Ultimamente vi ho portato anche Lavorazioni minori sui video brevi E ho notato che anche quelle stanno andando molto bene Una è questa Una è il rosmarino ornamentale Tutte le lavorazioni che ho fatto Sono andate molto bene E quindi non posso far altro che ringraziarvi ancora Per il grandissimo supporto Vi dico che se vi iscrivete da qui a un tot di tempo Ci sarà una sorpresa per voi E' già un po' che ve lo dico Ma magari non tutti arrivano a fine video Quindi stavolta lo dico in questo video un po' particolare Di saluto E quindi vi ribadisco La mia idea che da qui fin quando avrò ancora questo canale Il mio obiettivo sarà portarvi il mio diario di viaggio E cercare di aiutare il più possibile Chi ha meno competenze di me Ad imparare nuove cose E rimanere in questo mondo del bonsai Che è veramente una bellissima passione Quindi arrivato a questo punto Non mi resta che ringraziarvi ancora di tutto il supporto Farvi dei grandissimi auguri e di buon Natale Che sarà domani se vedete il video appena uscito E anche un felice anno nuovo Perché questo è praticamente l'ultimo video dell'anno Ho deciso di prendermi tra virgolette questa settimana di pausa In modo tale da potervi portare migliori contenuti l'anno prossimo Prendo questa settimana per ordinare un po' le idee E per riposarvi un pochettino Ora vi lascio un saluto speciale E ci rivediamo l'anno prossimo Grazie ancora ragazzi Un abbraccio a tutti Stella Facciamo gli auguri Facciamo gli auguri Facciamo gli auguri Di un po' Auguri a tutti gli iscritti Buon Natale e buon anno Ciao ragazzi Buon bonsai a tutti Ciao ragazzi